questo è baltico pieno buongiorno buongiorno, primo giorno di finirla la barca è rosa molto rosa puoi prendere il squincio porco zio è grosso ma grosso grosso io al guado va cazzo cazzo ho preso bene che giù un chass ecco 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 vuoi la pinza? posso aiutarti? stiamo andando nella baia di Beppe e la troviamo ancora ma è dritta di là quella la Ivan o no? ma ti starebbe talmente bene adesso sarà colpa mia se è sotto la barca l'ho attaccato per il culo l'ho attaccato per il culo ok? scusate seguiva il mio ho lanciato dove ho lanciato io e l'ho preso il bastardo se per caso ti serve aiuto non contare su di me ma se sei una brutta persona no guarda io mi rifiuto di riprendere guarda è lui il colpevo e l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso a fare è combattivo puoi scendere? è bello Ivan ha fatto il metro? vuoi aprire un po' la frizione? e guarda che è lungo questo guarda che questo è lungo mica ce la do una corretta al pelo eh eh Ivan non riesco mica è grosso e te l'ho detto non ci arrivo noia non ci arrivo Ivan non ci sta oh che sei stato ci sta ci sta si 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 vedete la fascia di uno contento? grazie alla russia cazzo grande passa sei pesci no no pinza di sei pesci piccolino piccolino eh dove vale questo? ecco visto insieme questo dove era male porca troia è pieno di uova bello e è bellino però non è non è figa non è bello? non vedo niente si cazzo si cazzo non è bello? questo è 90 porca no ho fatto la fine col jerk col jerk hai visto? immarazzante che trambata che mi ha dato questo è come quello di come il sai che lo stesso? non devo ggbay ggbay vieni ragazzi vieni ragazzi lo stesso Sì, 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 sì. Grazie a tutti.